Quanto è veloce la progressione della retinite pigmentosa? Allora, è una domanda a cui è difficile rispondere, non esiste una risposta purtroppo univoca sulla progressione della patologia. Ogni individuo ha una storia a sé, quello che sappiamo è che la patologia ha un andamento a gradini, cioè ci possono essere delle fasi di stabilità che possono durare diverso tempo seguite a un peggioramento che può avvenire anche nell'arco di poche settimane. Però la lunghezza di questi gradini solo col follow up del paziente le possiamo stabilire. Quello che inoltre sappiamo è che la patologia è più aggressiva nelle fasi iniziali, nel senso che il conveggimento del campo visivo periferico è più rapido, quando ci si avvicina invece alla porzione centrale la velocità di progressione diminuisce sensibilmente. Poi dipende anche dall'età di insorgenza, generalmente le fasi, le patologie che esordiscono più tardivamente sono quelle che hanno anche una progressione più lenta, quelle che invece vengono diagnosticate nel primo decennio di vita del bambino, del paziente, possono avere invece una progressione un pochettino più rapida, soprattutto nelle fasi iniziali. C'è un falso mito che è quello della gravidanza che può alterare e peggiorare la patologia retinica, questo non è vero, la gravidanza determina un cambiamento per questioni ormonali di composizione del cristallino, questo può determinare una variazione del difetto refrattivo, analogamente all'allattamento, ma sono condizioni reversibili e quindi si ha un ritorno alla fase iniziale al termine della gravidanza e dell'allattamento, non ha nessun effetto però sulla progressione della patologia. Analogamente al parto non c'è una controindicazione al parto naturale avendo la retinite.